eh aspetta prima l'ha fatta prima le aveva fatte le macro ma con la piattaforma eccolo è bellissimo loser dove andiamo raga il posto camper vi consiglio di andare qua andiamo qua raga che non c'è mai niente ma in realtà si proda beh chi anche se lo guarda tutto ma l'hai chiuso il video questa qua è l'ultima spot pod ma l'hai finito no ok raga questa qua è l'ultima spot di questo video proviamo a giocare cerchiamo di farla bene allora non è vero era leo si era la schicchi è la schicchi è la schicchi no si perchè l'abbiamo cifilato no lui ci si chiara beh è un po' che è schicchi è schicchi è schicchi è schicchi è schicchi è schicchi ma credo che anche i citori in partita non dovrebbe schicchi è schicchi è schicchi no perchè io sto laggando con l'oricio penanato da poche ore e nei video e prima dei video non la cavo con l'oricio penanato da poche ore no un arco mi riesco a scolire come un tappo lisa guarda cosa mi ha preso per esaltare lisa guarda cosa mi ha preso per esaltare guarda c'è una cattura dico dove andiamo? c'è dove andiamo? c'è dove andiamo? c'è dove andiamo? c'è una cattura c'è uno c'è uno no no dai mi sono venuto che mi sono venuto mi sono venuto grazie cosa? che fai che fai perchè comunque sai no cosa ti devo dire non mi ricordo vabbè non mi ricordo non mi ricordo ale a casa tua potrò usare links con con visione si vero ma non hai mai provato links con visione no nix nera no ma a casa mia sarai dai l'autorità di lui è ovvio che c'è gente autorità anche dai l'avevo chiamato di tutto io questo è un figlio ci vanno 65 caso a rama ai 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 chiesto un bagno io non ho mai visto questa cosa hanno aperto per donna se fai serio sono qua non ci credo scusa avevo la scelta mi lasciate che ho ho avuto ma anche un cini super ero che console dai bello bainamo avere un compagno a te piace da in amore da marina taglia il rampino è tutto ma c'è che ho fatto le mediche andate a a risarmi non è io andando io ma do io prima ci vado io ma dai raga mi servono colpi aereo 25 18 secondo te ho 18 colpi e anche colpi mitra che ne ho 39 sì ma aspetta tu hai anche tutte le armi mitiche cioè tu hai un'arma mitica lascia c'è almeno qualcosa sì ma bello si stanno aprendo tutto però ma sei stupido io 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 non ho niente in realtà e tu hai voluto della madonna dammi qualcosa almeno dammi il rampino piuttosto grazie no mi hai rubato i colpi dai dammi li dai dai non ho colpi ho 91 colpi 24 92 39 11 25 5 12 e 2 metri come come do i no 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 adesso ne ho troppi vabbè e colpi pompa e mitra mi servono non ho portato che ne ho 11 39 6 mille Ale aspetta viene quale no mia la torta no viene quale dai manco io dai manco io ti do lo scarro dai ho la posto della torna no 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 proprio tanti colpi raga ho 48 30 in tutti i miei consigli odi a marco tutti i miei consigli odati a marco raga io no raga io ho 48 30 allora non ho colpi cosa vieni quale facciamo facciamo 14 colpi a testa ok ok assai e 15 nonno 22 è come facciamo 18 continui 17 vabbè dai ok mitra trasporta mini specchi va bene va bene solo non erano dall'aglio visti vabbè i colpi militare dopo ora vogliamo interpretare adesso ok change adesso veramente in g io non ho colpi raga non ho neanche un caricatore non ho neanche un caricatore perché ho dato tutti i miei colpi amarti sono tutti i due cromati sono tutti i due cromati sono tutti il mio racconto sono tutti i due cromati sono tutti i due cromati hai trovato già l'inju dai e basta no 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 io non ci credo raga ma avete visto cosa mi è successo mi sono passato davanti ok adesso apri una cassa aspetta 349 spight ti prendi accetta si ho trovato giulindo anche io voglio giulindo però niente tanto oggi viene a casa mia marco e mi facciamo un voto di missioni sia qua su bro dai giochiamo ma basta tornate alla lobby ciao raga guarda forse potremo incontrarli Ciao